malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene dicevamo nell'ultima pillola che i soldatini neoliberisti inquadrati nei loro plotoni di pensiero unico indossano tutti le stesse divise usano gli stessi argomenti e ripetono gli stessi slogan pubblicitari avremmo vissuto al di sopra delle nostre possibilità occorrerebbe fare le riforme per meritare il nuovo regno dei cieli proseguo usano sebbene osserviamo lo schema modelli tipici del pensiero religioso con particolare riferimento a quello cristiano semplicemente sostituiscono i meccanismi di pentimento e perdono di penitenza salvifica e soprattutto creano alternative divinità pagane la dea speculazione gli dei mercati le ninfe borse e via discorrendo mi fermo qui e voglio commentare soltanto questo diciamo pezzo di ragionamento in pratica sto affermando che il neoliberismo il capitalismo che vi viene venduto come il modello moderno del ventunesimo secolo in realtà non è altro che una riedizione di un pensiero diciamo di fine ottocento neoclassico dell'imperialismo inglese ebbene sia qualche cosa di assolutamente indiscutibile l'unico modello economico possibile anzi il migliore dei modelli economici assolutamente immaginabili così non è per per farlo vi indottrinano con continui passaggi di tipo pubblicitario con slogan nei quali alla fine alcuni di loro credono quelli più intelligenti chiaramente no e cioè avremmo vissuto al di sopra delle nostre possibilità non avremmo fatto le riforme via discorrendo a nulla diciamo così serve l'esperienza empirica cioè il fatto che noi da 30 anni applichiamo queste regole perché dal 1991 che facciamo il cosiddetto avanzo di primario e cioè noi abbiamo una tassazione che supera la spesa pubblica e i soldi che tra virgolette risparmiamo tagliando le spese alzando le tasse agli imprenditori e alle famiglie vanno a finire negli interessi speculativi dei banchieri privati abbiamo perso competitività per questa ragione perché abbiamo creato una moneta che è troppo forte per noi abbiamo scaricato la deflazione salariale sulla deflazione salariale quella che una volta era la capacità di esportazione abbiamo perso nelle pensioni nei posti di lavoro nella ricchezza e soprattutto nel risparmio degli italiani ma tutte queste cose non bastano a fare pensare che si possa cambiare strada perché perché è una religione vi dovete pentire è colpa vostra se l'italia va male questo è quello che naturalmente vi vogliono fare credere buona economia umanistica malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene grazie a tutti